la puntata del serale di amici 23 andata in onda ieri sera su canale 5 ha regalato uno spettacolare colpo di scena mai visto prima nella lunga storia del talent show condotto da maria de filippi un professore si è trovato costretto a fare una scelta clamorosa scatenando dibattiti accesi tra il pubblico online il protagonista di questo evento senza precedenti è stato rudy zerbi noto professore della scuola di amici durante la puntata zerbi si è mostrato furioso con uno dei suoi allievi olden che non aveva preparato il compito assegnatogli per la sfida con mida nonostante le motivazioni di olden che aveva consegnato un ep alle 6 del mattino zerbi ha preso una decisione netta la prova sarebbe stata persa a tavolino la reazione di zerbi ha sollevato un acceso dibattito sul web con alcuni che lo hanno appoggiato e altri che lo hanno criticato anche lorella cuccarini è intervenuta nel confronto ma olden ha ribadito le sue ragioni la tensione è stata palpabile e questa situazione senza precedenti ha reso la puntata del serale di amici 23 ancora più avvincente restate sintonizzati per scoprire come si evolveranno gli eventi nella prossima puntata